Giovedì 2 novembre nella sala consigliare di Gromo alle 20.30 una serata introduttiva un corso di difesa personale sul territorio dell'Alto Serio. Come è nata questa idea? Quest'idea è nata da un tavolo dell'osservatorio politiche giovanili e della famiglia del minore. Questo tavolo è evoluto da tutti i comuni dell'Alto Serio che sono Gromo come capofila, poi Valbondione, Gandellino, Ardesio, Valgoglio, Villadogna, Piario e Oltresenda. In queste riunioni cerchiamo di affrontare tutti i problemi sociali del nostro territorio e trovare delle soluzioni. Negli anni precedenti si è già fatto qualcosa ma adesso concretamente vogliamo portare alla ribalta i maltrattamenti familiari e non con questo corso. Che cosa vi proponete con questo corso? Questo corso è appunto di difesa femminile ma anche no, possono partecipare anche gli uomini naturalmente ma non intende solo difendersi ma portare alla luce questi maltrattamenti, avere il coraggio di denunciare queste cose sia in famiglia che non e trovare un aiuto. Infatti questo corso in collaborazione anche con la stazione dei Carabinieri di Ardesio nella serata di presentazione intruderà il tutto il nostro maresciallo Brussato e ci sarà il maestro di arti manziari della scuola Vominan Viet Vodau di Castione della Presolana che è il Carabiniere Speranza che spiegherà appunto i tecnicismi di questa cosa ma voglio proprio sottolineare che l'aiuto che noi vogliamo dare alle donne che si presenteranno è quello di avere il coraggio di denunciare queste cose e di uscire allo scoperto. Il tavolo dell'osservatorio politiche giovanili ha poi in cantiere altri progetti. Sì, noi siamo coadiuvati ed aiutati dalla cooperativa Sottosopra e abbiamo intenzione di portare sul territorio anche un codice etico per quanto riguarda il bere. Questo codice etico verrà proposto a chi somministra appunto le bevande alcoliche non tanto di non far più vendere le bevande alcoliche perché sarebbe assurdo ma non somministrare queste bevande ai minori e soprattutto quando una persona sta esagerando che almeno il barista o il proprietario del negozio gli dica che è sufficiente il livello dove è arrivato. Ci teniamo molto a questa cosa perché i nostri ragazzi sono facilmente preda di questa cosa solo perché si sentono forti o vogliono essere simili ai loro amici. Di conseguenza a breve appunto metteremo sul territorio questo codice etico e speriamo nell'aiuto di tutti. Quindi ricordiamo il primo appuntamento? Allora rinnovo l'invito in sala consigliare a Gromo in piazza Dante e venite almeno per conoscere di cosa si tratta vi sarà spiegato il tutto dall'abbigliamento che dovrete avere se vi volete ascrivere, assicurazioni, certificati medici, tutto quanto perché si tratta di una cosa molto seria vi aspetto e volentieri vi incontrerò e parlerò anche con voi. Grazie. Grazie.